... in realtà stanno andando spagnacissimi e ovviamente Alessandro Cammaschi tra il posto di Vibusco di Tommasile che va a chiudere il buco Alessio Clementoni in certa posizione non è male, non è male un quarto cambio a livello di atleti impegnati e adesso in avanti anche per il posto di Vibusco poi Menzana Siena poi un posto di Vibusco un posto di Vibusco così non ovviamente in con effetto valutativo ma semplicemente per indicare quindi con il posto di Vibusco Menzana Siena che si va velocissimi già c'è a corso il primo chilometro in 1.23 quindi ben sopra i 40 km di medio il posto di Vibusco tiene il ritmo abbastanza alto dalla scritta e sopassi il posto di Vibusco poi la Messana Siena con Ramona che sembra quello che riesca a arrivare un po' più fatica il ritmo della squadra di Siena ma che comunque la terza di valore internazionale siamo con Vibusco Messana Siena siamo per silenzio perché siamo in attesa dell'azione decisiva sempre leggermente in vantaggio Bellusco ma è in grado di prodursi in uno strappo decisivo sempre anch'io il posto di Vibusco è in grado vediamo se prova l'interno ma si rimane il male davanti il posto di Vibusco è in grado che è un po' più avanzata la territoria di Natura del Vibusco prova la parte di cannone che salta l'avversato e adesso il posto di Vibusco ha allocato adesso sembra che sia battuta quando mancano quattro giri l'ultimo chilometro è partita adesso stanno tirando fortissimo tutti stanno tirando al massimo tutti prova Duccio l'ultimo chilometro il suo passo ma non è ancora ovviamente di Vibusco siamo in grado 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 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 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 8 7 7 8 7 8 8 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 21 21 25 25 22 23 23 24 25 25 25 25 Grazie